Siamo noi i campioni dell'Italia, siamo noi! Presidente, lei negli anni ha sempre creduto e mattone dopo mattone è riuscito. Presidente, lei anno dopo anno, con sacacia, con grande lungimiranza, ha costruito mattone dopo mattone un grande risultato. Abbiamo, con tante sconfitte l'abbiamo costruito, perché abbiamo patito tante sconfitte in B. Sì, ma mi ricordo quella della 2, la vittoria qui a Perugia e il salto in a 1. E mi ricordo oggi, sto vivendo oggi quella gioia. Sì, le vittorie si controviscono con le sconfitte, con la semina, con l'entusiasmo, con la moltitudine di sponsor, perché noi siamo tanti sponsor e questa è la vera forza di Perugia, essere più di 100 sponsor. Questa è la forza nostra. È stata la sua capacità di saper convolgere tutti, allestire questo bellissimo palazzetto. Guarda, noi abbiamo dentro quello che siamo fuori e quello che noi siamo fuori lo abbiamo dentro. Le facciamo con passione, lo vedi? Io non mi volto mai male con nessuno, perché so che se sono qua, perché mi vogliono bene. Perciò sempre il gentile con la gente. Vincere al quinto gioco proprio al palavangelista è stata un apoteoso. Sì, è 3-0, una bella asfaltata. Perugia non regna. Perugia se li mangia. Quindi, quando io dicevo ieri sui spalti, voglio quelli che... Quei che dicevo? Quelli che... Quelli che... No, avevo detto una cosa. Quelli che si mangiano cannibali. Li abbiamo visti. Un pubblico così ha portato questo risultato.